Con Sebastian Kret, 2006 esordiente nel Follonico a Gavorrano in Serie D in questa giornata di festa, eri stato protagonista, ho detto in diretta, al torneo Passalacqua, ma qua insomma è un altro tipo di calcio. Sì, qui si vede anche la differenza, soprattutto fisicamente, anche dal punto di vista di gioco, appunto, come girano entrambe le squadre, quindi c'è da di che 30 minuti si sono sentiti tutti a fuoco. Senti, a dire il vero non abbiamo notato questa tua emozione in campo, come stai in questo momento, sei emozionato, è normale, ma in realtà in campo sembravi un veterano, quindi complimenti e soprattutto, come si dice, ad maiora, quindi a un qualcosa che prospetti un futuro sempre migliore. No, appunto, come si è notato, in campo sono entrato molto tranquillo, anche perché anche negli allenamenti con la squadra mi sono trovato molto bene, diciamo, quindi anche loro mi hanno dato una mano aiutandomi appunto a esordire, quindi niente, mi sono trovato molto bene, soprattutto giocando molto semplice e facendo le cose facili. Hai ricevuto, e questo lo dico io, complimenti dell'ingegnere Luigi Manzi al termine della partita, è rimasto incredulo sulla tua età, quindi questo direi che è una giornata speciale che ricorderai per tutta la vita. Sì, è appunto una giornata speciale, anche perché passare da inizio anno a fare un campionato regionale a fine anno appunto a esordire in Serie D, penso sia un gran pass. Io ti faccio di nuovo in bocca al lupo, i complimenti e credo ci rivedremo il prossimo anno. Grazie, grazie mille. Grazie a tutti.